Musica Benvenuti all'appuntamento con il nostro Tg dedicato alle vallate. Cominciamo con il casentino. Quello del 2021 sarà un Natale in tono minore. La speranza lo scorso anno non era certamente così. La voglia di fare festa rimane ma i consumi sono contenuti perché c'è paura del futuro. Intanto anche i ristoratori cominciano a ricevere le prime disdette. Quello 2021 sarà un Natale in tono minore per 8 casentinesi su 10. Anche nel territorio infatti nonostante le vendite siano piano piano ripartite i consumi rimangono ancora contenuti. Intanto anche i ristoratori hanno iniziato ad avere le prime disdette per il pranzo di Natale e il cenone di San Silvestro a causa della risalita dei contagi e delle tante quarantene. L'85% dei toscani vivrà quindi questo Natale in maniera più dismessa rispetto a quello dello scorso anno. Ma nonostante tutto il 76,9% non ha rinunciato a fare regali, sebbene con un budget più ridotto, circa 158 euro a testa contro le 162 del Natale 2020. A rivelarlo è l'indagine condotta da Format Research per ConfCommerce Toscana, dati questi che rispecchiano anche la realtà casentinese. Nella classifica dei regali più gettonati si piazzano al primo posto i prodotti gastronomici seguiti da libri, capi di abbigliamento, giocattoli e carte regalo. Tra i canali di acquisto si fa largo internet, anche se in casentino il legame con i negozi di vicinato rimane ancora forte. Nonostante la crisi dei consumi di questi ultimi mesi legata agli effetti della pandemia e all'incertezza sul futuro, le vendite da fine novembre sono ripartite, ma i casentinesi sono ancora sul chi va là, spiega Luca Boccalini, responsabile della ConfCommerce casentinese. I regali più importanti si fanno ai piccoli di casa e ai partner. Per gli altri si lascia spazio a qualche pensierino intorno alle 20-25 euro. Nella vallata si continua a comprare nei piccoli negozi, grazie all'atmosfera natalizia creata da addobbi, illuminazioni ed eventi. Certo, le notizie del rialzo dei contagi degli ultimi giorni hanno raffreddato un po' gli animi. E grazie alla solidarietà di un'azienda valdarnese a Terra Nuova e San Giovanni il giorno di Natale saranno consegnati 250 pasti e 40 spese alimentari alle famiglie in difficoltà. 250 ai pasti donati il giorno di Natale a San Giovanni e 40 alle spese alimentari consegnate ai nuclei familiari più fragili a Terra Nuova. Questo sarà possibile grazie ad un'azienda valdarnese. Per la settimana di Natale sarà l'azienda Progetto Italia Servizi a sostenere interamente le spese per famiglie che sono assistite dalla Caritas e così la Caritas stessa potrà trarne un beneficio trattenendo alcune delle loro risorse. L'innominativo di queste persone sono state individuate insieme ai servizi sociali del Comune San Giovanni Valdano dalla Caritas e saranno consegnati a domicilio delle persone stesse da volontari, in primis la Gesci, quindi gli scout di San Giovanni e poi da altri volontari. Per l'azienda è stato interessante restituire al territorio valdarnese qualcosa dei risultati che ha ottenuto. Questo qualcosa doveva avere un risvolto sociale, cioè doveva cercare di aiutare famiglie che in questo momento, in questo periodo storico, particolarmente difficile, potevano avere dei bisogni da realizzare. I pasti saranno preparati dall'impresa sociale Coelet. Coelet svolge sul territorio un lavoro di mensa, mensa sociale, quindi è stata coinvolta come parte tecnica per la preparazione sostanzialmente dei pasti per queste iniziative sia sul Comune di San Giovanni che sul Comune di Terranova e quindi si incarica di tutto quello che è la parte di somministrazione, quindi dagli acquisti delle materie prime alla preparazione, confezionamento e trasporto in loco. Mostre aperte a Sansepolcro ma con le precauzioni e il buonsenso, gli altri eventi sono stati annullati. Continua nei giorni di Natale a Sansepolcro il programma degli eventi realizzati dall'amministrazione comunale insieme all'associazione di categoria e a numerose altre realtà del territorio. Fino al prossimo 6 gennaio, dal tardo pomeriggio di oggi, continua presso la sala mostre in piazza Garibaldi e la sala espositiva di Franco Alessandrini in via aggiunti, la venticinquesima edizione della collettiva di arte varia. Domani, domenica 26 dicembre alle 17, quadro vivente in piazza Dotti a cura dell'Accademia Enogastronomica della Valtiberina. Lunedì 27 dicembre alle 18.30, corteo natalizio a cura delle associazioni Lauro e il gruppo musici della società Balestrieri. All'Euro 21, concerto di Natale presso la cattedrale a cura del Lions Club Sansepolcro con la collaborazione del Coro Città di Piero e l'Associazione Amici della Musica. Sono aperte fino al 9 gennaio prossimo le mostre dedicate ai presepi con la seconda edizione della mostra di arte presepiale nella Chiesa dei Servi di Maria nei giorni festivi, prefestivi e su appuntamento. Il grande presepe nella Chiesa di Santa Marta a cura della società rionale di Porta Romana. Infine il presepe a Gricignano a cura della locale Proloco. è aperto tutti i giorni festivi, dalle 10.30 alle 12.30, dalle 15 alle 19.00, nei prefestivi dalle 15 alle 19.00. Un quadro di Luca Tedeschi andrà ad arricchire il comune di Lucignano. L'opera è stata donata al sindaco, dal pittore. Il pittore lucignanese Luca Tedeschi ha donato una sua opera in canto viscerale al comune di Lucignano. Rappresenta l'identità dell'essere che è ripresa dall'impronta digitale con il suo interno rappresentato il paese. Il paese che si amalgama a questa figura di persona che in volo, in sogno, sovrasta il paese. Questo amalgamarsi fa sì di una trasmissione di quello che è l'essere cittadino, in questo caso l'essere lucignanese. Quindi, se non il sindaco, quale figura più adatta a rappresentare la persona nel quadro? Luca Tedeschi è un nostro cittadino, un artista. Sono veramente felice questa mattina di ricevere la sua ultima opera che ha fatto per la nostra estemporanea di pittura. Sono veramente felice di questo perché lui ha rappresentato l'essere cittadino che credo rappresenti tutti noi. Quindi, onorata di poterlo appendere nel nostro palazzo comunale, lo ringrazio veramente da parte mia e da parte di tutta la collettività di Lucignano. E siamo arrivati al termine del nostro Tg Vallate. Grazie per l'attenzione e ovviamente buon Natale a tutti. Arrivederci. Grazie per l'attenzione e buon Natale a tutti.